Tu, hai qualche minuto per gli altri? Ben ritrovati a Caritas Insieme e buon Natale da parte mia e da parte di tutti gli operatori di Caritas Ticino e dalla redazione di Caritas Insieme. Ci troviamo nel nostro Sigrid Twinset Club. Per questa occasione festiva particolare abbiamo lasciato spento il nostro studio televisivo e abbiamo con noi due ospiti che i nostri fedelissimi sicuramente conoscono già, Daniela Abruzzi dell'Associazione Abba e Don Frank Essig, vicario di Pregassona. C'è un vecchio adagio che dice Natale con i tuoi. Questi due nostri ospiti non possono passare il Natale con alcuni dei loro familiari per una storia un po' particolare, una storia di solidarietà. Daniela, che cos'è questa storia? Mio fratello è partito ormai 25 anni fa per l'Asia e è rimasto là, è partito perché ha iniziato un progetto di aiuto allo sviluppo, si trova in Cambogia. Questo in fondo ci ha permesso di ritrovarci in un modo diverso come fratello e sorella. Quando io poi sono andata a vedere cosa stava facendo, sono tornata e qui abbiamo fatto nascere Abba, che ha in fondo cambiato un pochino la nostra storia. Don Frank? Sì, sono qui dal 92 e poi ho ordinato sacerdote nel 98, sono nella parrocchia di Pregassona e poi nel 2000 alcuni amici della mia parrocchia hanno voluto scendere con me nel mio paese a vedere il polaio da dove sono venuto fuori. Ritornato qui in Ticino, rifacendo un po' la valutazione di quello che è stato vissuto, è venuta l'idea secondo la quale non si può non fare un qualcosa perché ci sono tanti bisogni, tante mancanze proprio per promuovere l'essere, lo sviluppo. E nel 2003 abbiamo, ci siamo costituiti in associazione e da questa associazione che porta il nome del mio villaggio, associazione De Domè, che promuove lo sviluppo in vari ambiti. Caritas Insieme inizia normalmente con il Vangelo in casa con Don Giorgio Paximadi e Dante Balbo, però per tutto il periodo dell'Avvento la formula è stata un po' diversa. Dante, cos'è successo? Abbiamo visitato quattro comunità, delle nuove comunità sorte dopo il Concilio Vaticano II per offrire ai nostri telespettatori e per me è stata anche un'esperienza personale molto bella, la scoperta di persone che abbiano incontrato realmente il Signore, che abbiano incontrato realmente l'esperienza cristiana viva e quindi che abbiano potuto sperimentarla e trasmetterla oggi con lo stesso entusiasmo con cui la potevano trasmettere i primi discepoli. Dai loro canti è palese, è palpabile questa giornata. Grazie. 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 Don Giorgio, tu sei qui con noi e quindi non puoi sfuggirci comunque, ci dai un pensiero anche per questo Natale? Pensavo di fare un accenno comunque alla liturgia del Natale, pensavo di leggere con voi insieme, un po' per farci gli auguri di Natale e per capire il significato della nostra celebrazione, un tratto della liturgia della Messa della Notte, particolarmente la seconda lettura della cosiddetta Epistola, appunto un tratto della lettera Tito, che è quello che viene letto nella liturgia, carissimo dice, è apparsa la grazia di Dio a portatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza, eccetera. L'Apostolo parte proprio da questa considerazione della gratuità del dono di Dio, Dio ci fa un dono gratuito, il primo in fondo che potremmo dire fa solidarietà con l'umanità e Dio non siamo, perché molto spesso noi abbiamo una concezione un po' distorta qualche volta, anche in fondo ai nostri bambini gli insegniamo che se sei buono, allora Gesù bambino ti porta i doni. Vabbè, a me non si è dato così, scusa, se ero cattivo mi davano il carbone. Perché secondo te allora bisognerebbe essere buoni così Gesù ci dà la sua grazia, allora a che cosa serve la grazia? A niente, ci autosalviamo e Gesù diventa una specie di, non so, una medaglia che il padre ci appunta al petto perché ci fa vedere, ecco tu sei abbastanza, sei sufficientemente bravo da salvarci, da salvarti da solo e di conseguenza io ti do mio figlio, magari lo faccio anche morire in croce perché in fondo non serve, no? Perché tu sei sufficientemente in grado di salvarti da solo. Però uno è il paradiso, sono dei miei meritari. Beh, questo è un altro paio di maniche, perché il primo comunque che merita è Gesù, il primo che merita è Gesù. E infatti questo testo dell'Apostolo Paolo lo dice molto chiaramente, è apparsa la grazia di Dio e poi ancora, egli ha dato Gesù, egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga zelante nelle opere buone. Quindi il padre in Gesù ci dà un regalo, ci dà un dono che non ha nessun fondamento e nessuna radice in un nostro merito o in una nostra dignità precedente. Noi non abbiamo fatto niente, non facciamo niente per meritarci il dono di Gesù Cristo. Anche se qualche volta forse nella nostra predicazione e qualche volta nella nostra maniera di vivere la fede non è così evidente. In fondo, in fondo, anche i sacramenti sono sentiti un po' come un premio per la bontà e non il contrario, e non il fatto che Dio ci dà gratuitamente questo dono in Gesù e il dono che Dio ci dà in Gesù è il massimo che possa dare. Cioè non c'è niente di più grande, non c'è una grazia più grande del dono di Gesù Cristo. Infatti, dice, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questo è forse uno dei testi del Nuovo Testamento più forti in merito all'attribuzione diretta della parola Dio alla persona di Gesù Cristo. E' un testo fortissimo, quindi evidentemente si presuppone che Dio non ci possa dare nient'altro che Gesù Cristo. Proprio questa fondazione è assolutamente gratuita, l'iniziativa di Dio non ha nessun presupposto umano. Non c'è nulla che noi possiamo fare per meritare in qualche maniera qualcosa. Questo dovrebbe essere spiegato comunque ai nostri bambini. Quando gli diamo il regalo di Natale non glielo diamo perché loro sono stati buoni. E' secondo me poco educativo dire ti do un regalo perché sei stato buono. No, ti do un regalo perché ti voglio bene e perché il mio amore supera anche il fatto, ciò che tu fai per meritarlo. Anche perché oggettivamente un papà e una mamma vogliono bene il loro figlio anche se non si coordina completamente con i loro desideri. Questo è evidente. E' tanto più Dio nei nostri confronti. Quindi c'è una gratuità assoluta. Però c'è una conseguenza. Però c'è una conseguenza. Infatti dice ci insegna a rinnegare l'empietà, i desideri mondani e poi ha dato se stesso per noi per riscatarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga. Dunque noi a partire dal dono che Dio ci fa in Gesù Cristo possiamo aderire a Lui. Possiamo chiedere, se vogliamo, il miracolo di essere cambiati da Lui in tutte quelle cose che evidentemente sono in dissonanza con questo dono che ci viene fatto. Ma, e ancora una volta, riconoscere, un accogliere la gratuità. Cioè se io cambio, se io mi converto, se io cammino nella via della fede, non è perché ho Gesù come esempio e allora mi sforzo di raggiungere questo esempio. Ma perché accolgo la sua iniziativa, accolgo il dono che Gesù fa di se stesso a me. Infatti ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità. Non perché noi guardando a Lui ci riscattiamo, per darci l'esempio di come autoriscattarci. No, perché Lui ci riscatta in ogni momento, in ogni situazione, in ogni circostanza. Ma quindi anche il dono di Natale, i doni che ci scambiamo poi fra di noi, assumono un altro significato evidentemente. Certo, è chiaro. Anche il dono di Natale è una bella tradizione che ci rimette davanti questa gratuità. Io ti faccio un regalo di Natale non perché tu mi hai corrisposto a determinate cose, ma perché ti manifesto quanto mi sei caro. Dio fa la stessa cosa. La tradizione di mettere i doni sotto l'albero, il quale comunque anche esso ha un valore cristiano, è un segno cristiano, è proprio questo, è proprio a questo significato. E oggi parliamo, questa sera parliamo di solidarietà. Beh, la solidarietà sarebbe disumana se non fosse mossa da questo evidentemente. Io so di aver ricevuto questo dono così grande, faccio in maniera che di questo dono così grande possano in qualche modo partecipare i miei fratelli. Grazie Don Giorgio per questa riflessione e per tutte le riflessioni che ci hai offerto durante quest'anno che sono molto apprezzate. A questo proposito vale la pena di raccontare un aneddoto. A me capita spesso di viaggiare sui bus della città e di incontrare persone che dicono con chiarezza io a messa magari non ci vengo, ma la vostra trasmissione la vedo lo stesso. Quindi raggiunge effettivamente persone che forse le prediche in una chiesa non le ascolterebbero. Ecco, torniamo ai nostri ospiti. Daniela, Abba è il nome che avete scelto per la vostra associazione. Abbiamo sentito parlare del dono di Dio. Che relazione c'è con questa scelta del nome? Ma in effetti quando dovevamo scegliere un nome abbiamo dovuto pensarci un attimo. Abba è il nome che ci è venuto in mente perché è il termine che in aramaico esprime l'amore paterno, l'amore di Dio verso i suoi figli e noi avevamo a che fare con dei bambini, bambini poveri, bambini orfani, bambini ammalati, bambini di cui magari il padre appunto se n'era dimenticato e quindi ci è sembrato una bella cosa chiamarci così perché in fondo ci prendiamo un po' cura di questi bambini come lo fa un padre amoroso. Abba, che si occupa di bambini, che si occupa di donne, un'associazione alla quale Caritas Insieme ha dato più volte dello spazio. Guardiamo insieme qualche stralcio di trasmissione. Il progetto Agare è partito con l'idea di poter aiutare mamme e bambini dalla strada destitute che non avevano nessuna speranza, che erano sulle strade, che vivono nel Bidonville e abbiamo fatto partire un centro di accoglienza e da lì è nato un programma che si è evoluto con gli anni per portare un programma di sviluppo globale toccando la vita di queste mamme e di questi bambini dal punto di vista sociale, emotivo, psicologico, spirituale affinché possono avere una speranza, una rientegrazione nella società e quindi una speranza per il futuro. Principalmente Abba ha un motivo di esistere a lungo termine, poiché questi problemi che toccano le vedove, gli orfani, le donne, ragazze, è un problema dilagante in tutta l'Asia, quindi sicuramente lo spero anche che potremo muoverci in altri campi, come del resto siamo già stati invitati sia in Afghanistan o anche in Corea del Nord, a proporre lo aiuto moltiplicando il progetto Agar, comunque per quello che riguarda la Cambogia abbiamo messo anche questa infrastruttura a lungo termine di aziende che hanno degli obiettivi, l'obiettivo principale è quello di creare posti di lavoro per questo gruppo di persone, ma il secondo è quello di poter far sì che queste aziende diano un profitto degli introiti grossi che riescono a finanziare direttamente i progetti in Cambogia, ora non si può parlare di una sostituzione totale, ma di una riduzione della dipendenza dei fondi che vengono dal di fuori, questa è la struttura di queste aziende e l'obiettivo. Il nostro impegno dalla parte della nostra famiglia, come dei nostri collaboratori, basati proprio sulla fede cristiana, ci permette di essere proattivi e ci permette di cercare di servire questi popoli, queste genti che vivono non soltanto nella povertà fisica, ma proprio nell'ingiustizia, che soffrono veramente di queste situazioni molto tragiche che poi danno adito alla povertà, alla mancanza del riso, alla mancanza dell'acqua e delle infrastrutture, quindi siamo stati innovativi nel cercare di porre fine a queste situazioni, penso che a mio modo di vedere queste persone, queste genti del Paese del Terzo Mondo non vogliono carità, ma vogliono un'opportunità e quindi abbiamo cercato di dare queste opportunità sia di raccogliersi, di poter entrare in un centro dove possono essere protetti, tiralfià e poter così ricominciare di nuovo, come pure avere una possibilità di lavoro perché dà loro una dignità e questo è molto importante per loro. Abba ha fatto come sapete un lavoro grandissimo in questi anni proprio nel promuovere questi prodotti qui in Ticino, la vendita qua in Ticino è molto alta, quindi abbiamo visto che anche le persone che comprano proprio che il prodotto è buono, di buon uso, quindi si compra qualche cosa non di superfluo, ma di qualche cosa che serve, che ha un buon prezzo e ben fatto, nel contempo si sostiene una ditta con delle responsabilità sociali e quindi questo vedo che c'è un maggiore interessamento da parte dei consumatori nell'Occidente, particolarmente qui in Ticino, penso che è un'esperienza positiva che Abba ha fatto. Un progetto di solidarietà questo è svolto da tuo fratello in Cambogia, ma che tu accompagni con un intenso lavoro qui in Ticino coinvolgendo tantissime persone, com'è strutturata la cosa? Quando c'è un progetto di aiuto allo sviluppo veramente bisogna mettere in piedi diversi pilastri affinché possa poi essere un progetto forte, forse per dare l'idea è un po' come quando c'è una guerra che ci sono quelli che partono al fronte e poi ci sono quelli che rimangono nelle retrovie a fare la guardia magari all'ultimo bidone di benzina che è però quello che serve per fare avanti e indietro con i viveri, ecco un po' questo è il concetto del progetto che è sul terreno e dell'associazione che poi lavora qui sul posto. È nata un po' così, abbiamo incominciato pochi fra di noi e poi la cosa ha cominciato ad allargarsi e oggi possiamo contare su veramente una vasta schiera di volontari che ci aiutano perché in effetti da fare ce n'è tanto e vogliamo in fondo fare non soltanto un lavoro di raccolta fondi che è quelli che ovviamente servono per poter realizzare dei progetti ma quello che ci interessa è anche fare proprio un lavoro di sensibilizzazione. crediamo che sia importante conoscere e sapere perché diciamo che la solidarietà di cui appunto abbiamo già parlato questa sera, la solidarietà è qualche cosa che dobbiamo sentire e che però proviene dal nostro cuore, non è soltanto mettere mano al borsellino ma è qualche cosa che dovrebbe appunto venire come gesto che viene da dentro di noi, questo gesto appunto del dono, della gratuità e quindi per fare questo dobbiamo conoscere, dobbiamo essere consapevoli di che cosa succede dall'altra parte del mondo. Adesso andiamo a Monte Carasso per conoscere una realtà, un ponte di solidarietà fra Monte Carasso e l'Albania. L'associazione Benefica in Memoria di Gianni Pestoni nasce nell'estate del 2000, allorquando Gianni Pestoni, municipale, figura attiva in diverse associazioni del luogo, viene prematuramente a mancare. A questo punto un gruppo di amici decide di raccogliere i fondi giunti in quel momento e farli convogliare in un'associazione a lui dedicata a favore delle persone più bisognose nei paesi in via di sviluppo. Negli statuti della neocostituita associazione si decide di destinare questi fondi a moncarassesi attivi nel mondo a favore delle popolazioni più bisognose. Suor Maria Tiglia in quel momento, dopo aver peregrinato un po' qua e là nel mondo, è attiva a Grams, nel sud dell'Albania, in una missione delle suore vincenziane. Il nostro ruolo a Monte Carasso e nel Ticino è quello della raccolta fondi destinata a questi progetti. La nostra politica è quella sempre dei piccoli passi, è quella di realizzare dei progetti mai imposti alla popolazione locale e possibilmente dei progetti che una volta realizzati possano poi essere gestiti autonomamente da loro stessi. Il primo progetto realizzato è stato quello del cosiddetto centro di promozione umana, un progetto fortemente consigliato e voluto da Suor Maria Tiglia principalmente per tracciare una via e dare un aiuto concreto alle mamme, alle giovani donne, alle ragazze alla ricerca dell'emancipazione in un'Albania che alcuni anni fa cominciava ad uscire dalle forti strutture del sistema comunista. Una volta realizzato questo primo progetto ci siamo indirizzati verso altri progetti e abbiamo realizzato un sistema di acquedotti con un collegamento per mezzo di un sistema di canalizzazioni nei villaggi. Il finanziamento è artigianale, non abbiamo una macchina organizzativa tale che ci permette di apparire sui mass media più importanti, abbiamo però un principio che adottiamo sempre ed è quello di, quando Suor Maria Tiglia fa ritorno in Ticino per trovare i suoi cari, di presentare in una serata pubblica i progetti realizzati. Crediamo questo sia la miglior pubblicità e in ogni caso anche la miglior conferma di come vengono spesi ed investiti i contributi che riceviamo. Eccoci di nuovo al Sigrid Twinset Club. Don Frank è Natale, il tuo cuore sicuramente è diviso fra gli affetti qui e gli affetti al tuo paese. Pensando al progetto che avete al tuo paese di nascita, che cosa sente, che cosa vuoi sottolineare? Come dice un proverbio, i passi camminano sulla terra, qui però il nostro cuore batte al ritmo del mondo. Casa è casa, sto qui però penso anche alla mia casa, alla mia gente e in che modo? Cercando di poter continuare a operare nell'ambito di questa solidarietà che abbiamo con tanti amici ticinesi che ci sostengono. Ci sostengono in vari ambiti, abbiamo le adozioni a distanza che abbiamo cercato di promuovere per permettere ai ragazzi che anche se non possono andare tutti a scuola, quelli che possono andare a scuola basterebbe solo 30 franchi al mese, quindi a ragione di un franco al giorno, permette loro di poter andare anche se a scuola. Quindi la promozione di questa solidarietà per aiutarli nell'educazione, promuovere anche la formazione professionale con gli apprendisti e qui colgo l'opportunità per ringraziare tutti i nostri soci e sostenitori che ci hanno permesso di poter dare aiuto a questi ragazzi ai quali i primi abbiamo festeggiato con loro nel mese di agosto con la delegazione ticinese con la quale sono sceso giù le prime feste di fine apprendistato. Ecco, alla fine pian piano qualcosa comincia a farsi vedere. E nell'ambito anche della salute, perché la promozione della salute, il paese che conta oggi circa 5 milioni di abitanti, di questo percentuale solo il 30% ha accesso alle strutture sanitarie. Ma con l'aiuto della nostra gente di questo Ticino siamo riusciti a realizzare questo centro di salute che pensavamo un centro che sarebbe servito solo per una popolazione di circa 3 mila abitanti, pensando che arriverebbero la gente dei villaggi vicini e invece sull'arco di 6 mesi di attività ci siamo trovati e ci troviamo oggi nell'obbligo di poter ampliare il centro perché ci sono più ammalati che dei posti. Abbiamo pensato a solo 8 posti letto, oggi ci troviamo nell'obbligo di ampliare perché il medico certe volte è obbligato di mettere i materassi per terra per curare questa gente. Il centro è stato inaugurato il 7 agosto del 2005 e poi è aperto al pubblico il 27 dicembre, quindi appena un anno, ma sono già nati al centro da noi 68 bambini e questo ci dà così una grande soddisfazione, ne accogliamo ancora l'opportunità, qualcuno dice che ringrazio troppo, ma non è mai abbastanza ringraziare perché quello che voi ci avete aiutato a realizzare, parliamo di Natale, nel nome della solidarietà, è così grande. Il 1 agosto abbiamo proceduto con l'appoggio e l'aiuto, l'avallo, come dicono i francesi, delle autorità alla posa della prima pietra di un nuovo centro, di un'altra struttura perché abbiamo ricevuto qui un impianto completo di radiologia che è già in locco, dobbiamo installarlo perché il medico ci dice che mancano delle cose che ci blocca nel rispondere ai bisogni della nostra gente. C'è un altro ambito che è anche quello dell'agricoltura perché abbiamo i bambini che sosteniamo la salute alla popolazione ma c'è anche il lavoro della terra, la terra è generosa, basta non essere la saroli, gli dai un grano di mais te ne dà 100 in più. La terra è generosa, fertile, sosteniamo anche le cooperative agricole alle quali siamo riusciti a adottare un trattore grazie a una famiglia ticinese che ci ha aiutato e questo ci permette anche di poter aiutarli a pensare che sono capaci di tanti, che sono capaci di molto. Ecco, sono più o meno gli ambiti nei quali noi interveniamo e questa solidarietà va sempre avanti crescendo e il governo ancora il 2 dicembre scorso ci ha promosso, ha promosso la nostra associazione dopo aver visitato le nostre realizzazioni, dopo aver visitato tante persone, inchieste presso le autorità locali, ci hanno perfino promosse a ONG, organizzazioni non governative, il che non è poco e quindi la solidarietà a questo modo di celebrare il Natale, non possiamo che dire grazie, è che questa solidarietà possa continuare. Il Natale ha scritto in ognuno di noi una grande storia molto legata anche alla nostra infanzia quando forse eravamo più liberi di accogliere il dono che ci veniva fatto. Penso che con tuo fratello avrai tanti ricordi del vostro Natale di bambini. Adesso con quello che vi ha offerto la vita, con l'esperienza che avete fatto, come vivi questa cosa? Ma in effetti ci troviamo a vivere un po' di ricordi, si ricorda quello che appunto come dicevi tu si faceva da bambino e questi ricordi affiorano e si vivono con gioia e quello che è carino è che si riesce in fondo oggi grazie anche ai mezzi di comunicazione che abbiamo, ci permette questo di in fondo sentirci più vicino, ecco io se penso a quello che poteva succedere magari non so 50 anni fa quando qualcuno partiva che poi non si sapeva più niente, arrivavano delle lettere ogni non so quanti mesi o anche magari quanti anni e oggi invece grazie agli email, grazie alle telefonate che si possono fare anche a basso prezzo o via computer c'è più vicinanza e allora ecco che magari mio fratello mi scrive e mi sta dicendo ah guarda stiamo facendo i biscotti di Natale, dobbiamo cercare di creare un po' l'atmosfera perché chiaramente quello che sta attorno non ti ricorda il Natale, ci ritroviamo a renderci conto anche di quanto è importante avere anche delle cose che ce lo ricordano il Natale, non so gli addobbi, il presepio e tutte queste cose che ci facilitano in fondo a calarci un po' in questa atmosfera che credo che sia comunque sempre un po' magica. I mezzi di comunicazione che rendono più vicino in effetti il fratello di Daniela se questa sera vuole vedere via internet la nostra trasmissione lo può fare. Il mondo che in un certo senso diventa più piccolo ma non necessariamente più facile. Un'esperienza di solidarietà che dà dei frutti e c'è un nuovo frutto nell'esperienza che ha vissuto Don Frank, hai scritto un libro. Sì, proprio per sottolineare i cinque anni di attività con la nostra associazione, il titolo è Shalom, pace da Auschwitz al Togo con Ruth Fayon e l'associazione Dedome. E questa esperienza è partita dalla visita di questa signora che è stato proprio ospite vostro qui di Caritas Insieme e con lei è partita l'idea di poter scrivere un libro nella quale avrei contrapposto proprio alle negatività o alle cose atroce che hanno vissuto i bei frutti che noi ricaviamo delle nostre esperienze di solidarietà che riusciamo a realizzare in Togo. Il libro lo si può trovare dappettuto ma il ricavato ci aiuterebbe proprio per sostenere la nuova costruzione dell'installazione della radiologia e del laboratorio che stiamo portando avanti. Dall'Africa alla Cambogia passando per la Svizzera un mondo che comunica. Caritas Insieme questa sera di Natale può essere vista da tutti in tutti gli angoli del mondo via internet. Io auguro a tutti voi un buon Natale e molta pace. Caritas Insieme questa sera di Natale.